salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di the fratagame eccoci tornati in un nuovo episodio di god of war allora riprendiamo da dove ci siamo lasciati e dovevamo salire qua sulla montagna dopo che abbiamo recuperato la luce di alfai se penso si pronuncia così non me lo ricordo mai qua era c'era la nube nera dell'alito nero ora comunque grazie per lui ci siamo riusciti a passare e adesso possiamo proseguire poi questo si appende proprio come una scimmia proseguiamo su per la montagna non vedo l'ora di proseguire per vedere giganti prima di sparire andavano sulle montagne di miglia sono spariti sono spariti da un giorno all'altro non si sa perché saranno tornati a casa a jotenheim forse chissà se il volto della montagna è un tributo a un gigante importante bella osservazione questo ok ci sono curioso di andare avanti tantissimo altro alito nero attenzione la torcia questa propria magia molto potente quella dell'alito nero ora però capisco sta andando da solo perfetto allora qua non c'è niente possibile vabbè vediamo un po allora che succede qua dentro vai non c'è niente molto buio mai sentito storie di un gigante con la testa di cervo chissà chi è ai 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 qua già ci sono un po' di cose allora qua c'è una pietrozza e qua c'è un'altra innanzitutto prima colpisci questo vediamo che succede non significa nulla manca qualcosa ci sarà un secondo cristallo di luce qui eh bella domanda ok ne serve un altro allora vediamo dove trovarlo ok non c'era niente oh merda bello qui è becca questa legnata grandissimo oh merda perfetto quanto mi piace sto gioco ragazzi quanto mi piace è troppo figo momento che abbasso le cuffie il volume delle cuffie c'è del gioco ok ok eh qua qua noi spacchiamo tutto sto cosa cos'è no sembra funzionare stiamo tralasciando qualcosa eccolo la eh come cazzo lo prendiamo soprattutto ok ottimo perfetto questo è il luogo importante per i giganti ci stanno mettendo alla prova allora mettiamolo qua ok così va bene adesso vai ottimo e qua avvicina le rune simboli e la risposta libertà si può andare fai pure ok fresa che sta facendo wow i giganti ci mettono ancora alla prova che figata ottimo grazie mille per averci creato la porta signor cornuto allora vai ole c'è un cristallo in cui porta fiaccone lo accendo accendi accendi meglio no non fa il ponte mmm questo ok ma non c'è altro sembra io ma in alto invece non c'è niente scendiamo ok ok questi sono troppo stretti per i giganti per i erigli oh non dici sul serio sono sempre serio non c'è un altro già mamma dice che la storia non è mai interessata i giganti sono una naranza come gli elfi e gli ultufolk non sono così davvero e il serpente del mondo ok lui è un gigante in tutti i sensi ma è l'unico esemplare ok là già c'è qualcuno inizia a farsi parecchio intrigante la situazione oh merda la la stronta fermala bastarda ehi cazzo guarda guarda che troia allora fermi ole ti piace così da dietro stronza ok questa la prendo anche se non ce n'è bisogno però vabbè giusto per qua ci sono mille corpi appesi speriamo di non tralasciare nulla ma qua ci sono già da aprire per i forzieri là c'è un forziere ma noi non ci possiamo ancora arrivare vero? boh vediamo dopo allora questo non lo prendo noi siamo arrivati da qua vero? no perchè sapete che io mi perdo ok lì ci si può rampicare non è vero non ne sono sicuro e ma c'è questo ma qua possiamo salire ok merda la pista legnata in faccia oh le grandissimo ah ok oh cazzo ole te sei forte ma sei un po' una pippa ok ok adesso lì ce ne sono altre vai come sapevi che era lì eh l'ho vista ok qua ci sono tutte le rune e va bene e ci sta quello ok momento ecco qua un po' tutto incasinato questo non si può fare niente allora laggiù c'è un bel baulozzo un altro cristallo di luce ah ok quindi perfetto andiamo a vedere subito cosa c'è dentro prima di proseguire di la così questo ce lo togliamo dalle balle ottimo cosa c'è? sembra così acciaio ok c'è altro no ok allora questo è a posto perchè là su c'era un altro di quelli cazzo è la strada ok allora andiamo a vedere laggiù che cosa c'è ah ok forse è la lampadina non penso serva ad altro ok cosa c'è qua dentro un baso qua un artefatto molto bene ottimo ottimo utili per fare un bel po' di argento ok e qua siamo ok lì c'è un'altra lampadina vai grande e lo sapevo oh leo grande oh leo sta mossa è una figata allora qua si prosegue e va bene ma il baulozzo dove cazzo è? guarda oh leo guarda sta figata oh leo stia ti sto bombolone spara spara oh leo stia grande che figata sta mossa ragazzi ok uno l'ho ciccato porca puttana e va bene ah vaffanculo b n r perfetto dovrebbe essere stato aperto grande vai dimmi che c'è una mela o un corno grande cazzo e andiamo ottimo ottimo aumentiamo di nuovo un'altra wow e vai che fagata ok allora vado a recuperarmi un paio di cose che ho dimenticato la sotto ok possiamo raccogliere questo e andare a decifrare quell'altro cosa la vai 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 atreus leggi ragazzo di qua certo chi l'avrà scritto eh non lo so come al solito perfetto ok quando la montagna era fredda furono melo au melo nao melo bao melo bao ok perfetto ci siamo adesso si può scendere da qua grande ok per recuperare un pezzo di vita dato che c'è qua ok allora da che parte si andava di qua andiamo con una certa calma che non si sa mai dimenticarsi qualcosa ok vai minchia sempre più stretto sempre più buio ok un bel po' di cadaveri eh si un bel po' ammazza che schifo ok dimmi cosa vedi beh sembrano umani non giganti già ladri in cerca di tesori vedi le trappole oh si per fortuna le hanno fatte scattare spera che restino morti ok grande ottimo allora decifra cosa dice signor si oh questo è duratron uno dei quattro cervi dell'albero del mondo sta di guardia all'entrata per iotenheim mentre i giganti dormono pensi che sia ancora qui non lo so eh vedremo allora iniziamo a girare anche qua vedere un po' che c'è questo? mappa del tesoro? sì ho già visto questa lingua hm ok e qua invece? ah era la vita? ok pabini ottimo allora allora qua c'era baulozzo? sì perfetto cosa abbiamo trovato? ok un bel po' di argento che fa sempre comodo mi do un'occhiata anche in alto che non si sa mai che non ci sia qualcosa eh tu ti distruggo che non si sa mai ok ah ye ehi fai calmo eh ole mica l'attacco lanciato potente ragazzi è fortissimo eh veramente forte guarda grande ah guarda qua che c'era il coso noi spacchiamo tutto lo stesso merda qua ce ne va un altro ma sto coso si può spaccare quindi? qua no sembra funzionare eh no bisogna trovare il pietrone mi sa bisogna guardarci bene bene intorno allora per fortuna qua si può andare solo di qua e lo sapevo vale ok è bello ok dove andiamo? il picco è la nostra meta dobbiamo salire ottimo allora qua non mi ricordo se non ci siamo possiamo esserci già stati dai vediamo dove va ehm non penso si prosegue di qua ma si entra in una camera esatto vai mila 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 no questi qua non credo o ehm acciaio infatti ok va bene che era quello che vediamo in lontananza perfetto adesso colpisci qua la lampadina che ci dà un po' più di luce poi saliamo wow mamma sapeva che era la montagna dei giganti no la sua richiesta si è rivelata più complessa di quanto pensasse ah però lì si può salire a quanto pare qui si può salire sì perché c'è la catena ok quindi probabilmente lì c'è il il cristallo mi auguro mi auguro va bene allora possiamo salire ok qua c'è una scritta è un nome credo ras lir significa terrore ok perfetto vai questo lo accade di sotto strano c'è una candela avvolta da una corda è una specie di pelle d'animale forse una alterna niente stoppito non ci serve il bifroste illumina la strada ottimo allora qua dove siamo noi chi ha acceso queste torce? i morti non hanno bisogno di luce stai attento qua butta la di sotto aspetta no no torna su ok dunque non c'è altro dimenticare qualcosa ok qua possiamo scendere perché c'è da recuperare qualcosa ottimo c'è un bauletto molto bene puttana quanto argento cante e poi non si può andare più da nessuna parte ok allora smettila dai stavo solo va bene allora proseguiamo di qua aspetta un momento prima di proseguire qua che cos'è? ora si può spaccare no qua apre per andare qua dentro ma che cos'è quello a fare? scusa vai una pinza però quella pietra lì mi puzza la cosa allora ragazzi datemi un momento ok va bene dai andiamo avanti tornate dentro a controllare bene che non avessi dimenticato qualcosa ma wow che figata il cuore della montagna dove siamo? una miniera se questo va fino in cima siamo vicini alla meta adesso capito? come si usa? che figata mamma mia che spettacolo ok allora cominciamo a scrutare un po' o ehm interrompiamo qua e proseguiamo la prossima volta si forse è meglio ragazzi perché sennò il video è già durato abbastanza allora ragazzi poi riprendiamo da qui così almeno non ci perdiamo io vi ringrazio per avermi seguito ragazzi mi raccomando ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete già fatto mi raccomando e ragazzi sostenete me sostenete le serie condividendo i video e lasciando un bel pollicione e un bel commento detto questo ragazzi io vi rimando al prossimo episodio di God of War mi raccomando ragazzi seguitemi anche sui social che troverete sempre il link sotto nella descrizione grazie ancora una volta ragazzi al prossimo episodio di God of War un bacione e un abbraccio da The Fratagame ciao ragazzi ciao 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 ciao